Tre suore della Fondazione Lucianum, la casa della Fraternità in via Monsignor de Lorenzo a Reggio Calabria, sono state investite dall'esplosione di una bombola di gas mentre stavano cucinando intorno a mezzogiorno. Lo scoppio si è verificato al primo piano della Fondazione Religiosa, che ospita una scuola materna, un istituto per anziani ed una mensa pubblica per cui le tre sorelle stavano preparando il pranzo. La zona nel giro di pochi minuti si è appollata di passanti e curiosi in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Le tre suore sono state immediatamente trasportate via in ambulanza per le ustioni di secondo e terzo grado riportate su tutto il corpo, che hanno richiesto il trasferimento al centro grandi ustionati di Catania.